Il paterno sembra aver definitivamente smarrito la verve e la lucidità di manovra della prima parte di campionato e anche contro il San Salvo è stato costretto a segnare il passo. Non ha giocato bene la ex capolista, soprattutto nel corso del primo tempo, durante il quale gli ospiti hanno tenuto costantemente in mano il pallino del gioco, senza però capitalizzare le occasioni che i Nerazzurri hanno concesso e alla fine l'1-1 appare come il risultato più giusto, anche se non accontenta nessuna delle due contendenti. E più avanti capirete perché. Tre assenze importanti tra i marsicani, Catalli, Amore e Di Stefano, e difesa per forza di cose rabberciata, anche se il rientro di Gabriele sembra conferirle una buona soldità. Ma dove il paterno Balbetta è a centro campo, perché il pressing dei Bianco Celesti è sempre efficace. Giornata di una storta anche per Mario Di Girolamo, insolitamente impreciso nei rilanci di piede, e proprio su un rinvio sbilenco dell'estremo di casa, per poco Marinelli non mette il sigillo. A sbrogliare la matassa deve pensarci Gabriele, che si rifugia in calcio d'angolo. Al quarto d'ora D'Aurelio riceve, avanza e tira, ma troppo fiaccamente e troppo da lontano. Di Girolamo para senza problemi. Altri due minuti e Colitto, in mezza girata dall'interno dell'area, ci prova ancora. Non si tratta di nulla di importante, ma è soltanto la conferma che il pallino del gioco resta costantemente in mano ospite. Al ventunesimo finalmente si sveglia il paterno, ma sullo scontro in area fra Micica e Felice, il direttore di gara fa segno che è tutto regolare. Poi si fa male Gabriele e per il paterno si tratta di una perdita importante, perché Iodice è costretto a ridisegnare la difesa, retrocedendo Albertazzi in terza linea con Iaboni che va a fare il centrale in coppia con D'Amico. Trentaduesimo, altro tentativo di Marinelli che calcia dalla linea di fondo e costringe Di Girolamo a rifugiarsi in calcio d'angolo. Marsicani che continuano a sbagliare, anche le giocate più semplici, ma al trentacinquesimo l'occasione migliore capita proprio a loro. E' Paris a percorrere 40 metri di corsa e presentarsi da solo davanti a Cialdini, ma l'attaccante conclude proprio addosso all'estremo bianco celeste e tutto sfuma. E per concludere vi mostriamo l'ennesimo errore del paterno che in chiusura di tempo sta per regalare il vantaggio al San Salvo, ma Marinelli mette altro sopra la traversa. E passiamo a vedere la ripresa che si apre con un lancio lungo in area a beneficio di Marinelli. Di Girolamo e D'Amico si scontrano tra loro e per poco il San Salvo non coglie il bersaglio. Il paterno si scuote e su azione di contropiede Miciche mette in azione Paris che impegna severamente Cialdini. Il tiro del numero 11 nerazzurro viene deviato in calcio d'angolo. Diciassettesimo, calcio di punizione per i bianco celesti e colpo di testa finale dell'avanzato Felice che termina alto di una spanna sopra la trasversale. Altra punizione al ventinovesimo, batte Triglione per Marinelli che si coordina bene, ma angola troppo l'inzuccata e anche questa occasione viene sprecata. Al trentunesimo il paterno potrebbe passare in vantaggio. Kras in buca per Miciche che entra in area a tutta velocità e lì trova Ramundo che lo sgambetta nettamente. È calcio di rigore ineccepibile e per Ramundo c'è anche l'ulteriore punizione del cartellino rosso. Dopo le solite manfrine sul dischetto va Miciche che batte troppo centralmente e Cialdini sventa in due tempi. Delusione tra i tifosi di fede locale ma al trentacinquesimo il paterno il gol lo fa per davvero. L'azione è un po' il marchio di fabbrica dei marsicani che scattano in contropiede alla loro maniera. In area carosone controlla e appoggia per il meglio piazzato Miciche che il cui tiro non lascia scampo a Cialdini. Sugli spalti i tifosi festeggiano perché alla fine mancano meno di dieci minuti e il Sanzalvo gioca con un uomo in meno ma al quarantaduesimo arriva la doccia fredda. Il Sanzalvo tenta l'ultimo assalto e Marinelli mette in campo tutta la propria abilità e la propria astuzia cercando il fallo che il paterno contesta vivacemente ma senza ottenere nulla. La posizione è particolarmente invitante e di Ruocco non sbaglia. Palonetto a scavalcare e di Girolamo può solo guardare. La beffa è bella e servita e al rientro negli spogliatoi la tensione si percepisce a naso. Un po' di tensione a fine partita perché il pareggio per 1-1 ha lasciato scontento sia il Sanzalvo che il paterno. Paterno che nel primo tempo non ha giocato bene, anzi tutt'altro, che però nel secondo tempo ha avuto l'occasione per vincerla questa partita al di là del calcio di rigore. Poi io dici che cosa è successo. Ma hai detto bene, il primo tempo non l'abbiamo fatto bene, poi nel secondo tempo credo che poi il paterno ha preso in mano la partita e sicuramente meritava la vittoria. Poi sull'1-0, a tre minuti alla fine non so, non ricordo, l'albitro ha dato quella punizione al limite dell'aria, secondo me inesistente, però purtroppo nelle ultime domeniche succede sempre questo. Hanno fatto gollo sull'1-1 e poi la partita è finita così. Ed è arrivato anche Rufini. Un Rufini soddisfatto o insoddisfatto? Questo pareggio ho detto in apertura che lascia scontenti un po' a tutti, è così? Ma io soddisfatto perché da uomo di calcio guardo la prestazione della squadra. La prestazione è stata quasi perfetta per tutta la durata dell'incontro. La squadra ha interpretato benissimo la gara, ci ha messo determinazione, grinta e in più tutte le cose provate in settimana sono state messe in atto. Purtroppo nel calcio la devi mettere dentro e nel primo tempo abbiamo avuto 4-5 occasioni per poterlo fare. Nel secondo tempo è normale che giocavamo contro il paterno, quindi non con l'ultima arrivata, è normale che potevano guadagnare un po' di campo, però abbiamo tenuto benissimo fino all'episodio dell'espulsione del rigore. Ci è andata bene che hanno sbagliato il rigore, sono stati bravi a fare gol, però la squadra anche in 10 non ha mollato, ci ha creduto fino alla fine. Ha raggiunto un pareggio che diciamo che a conti fatti si può dire giusto anche se sul compito delle occasioni abbiamo molto da recriminare.